Mi siete ambientati meglio patatini, io prima quando sono scese come non ci state più dentro quello, il trasportino qua ho usato il trasportino e la borsa porta più minimi e avevo solo due mani e il recentino non ci stava, ora avevo lasciato il recentino a metà strada, eh poi dopo parte l'oro in mezzo al parco e li mollo, ora hanno iniziato ad alzare il cullo, poi mi hanno visto allontanarmi, hanno pianto, poi via sono corsi dietro di me per seguire, poi io ero troppo veloce, allora sono tornati dietro tutti quanti e tutti dentro il recentino, tutti da soli dentro il trasportino a surro, ma hanno fatto come gli uccellini, gli uccellini e stanno dentro al nido, fiduciosi che mamma dentro al nido li ritrova, certo che li ritrova e guardate, guardate la mia Dudu, Dudu, Dudu Lupu, la mia Dudu sta sempre appiccicata, siccome ha una lampa storpia, che l'hanno spessata, gli l'hanno spessata, questi stronzi, per caricare sul camion, nella tua macella, allora sta sempre appiccicata agli scatoloni dell'anno, tutti evidenziati, adesso ci abbiamo una galina evidenziata di giallo anche lei, perché è importante, non riesce evidenziata di giallo, non è vero, tutti qua dalla mamma, tutti qua dalla mamma loro, guardali, tutti qua vicino a mamma sono, oh bimbi, c'è mamma anche lei, vai un genere, no?